Bentornati su MyFootballGersy. Oggi vi mostro questa splendida maglia speciale dei Lakers per Babe, veramente una chicca. Grazie a tutti. La maglia è bellissima. Nella mia classifica prende 5 stelle. Me l'aveva chiesto mio figlio e devo dire che ci ha visto veramente giusto. La maglia è bellissima. Il costo lo vedete qui sopra? Non mi voglio dilungare oltre. Vi voglio solo dire che il rapporto qualità-prezzo che voi vedete di questa maglia è veramente imbattibile. In descrizione, qua sotto, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere quale splendide sorprese vi attendono. Ora vi lascio la parte finale. Prima però lasciateci un grande like, ma soprattutto iscrivetevi al canale. È un piccolo gesto che fate, ma che ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media.